Per alcuni è solo Villa Ilca, per alcuni invece è un palazzo storico e maestoso con delle rifiniture meravigliose. Mi trovo in un grazioso bilocale disposto su due livelli, con le travi a vista e l'esposizione angolare. Come vedi, il loft è ristrutturato ed arredato e c'è tutto. L'unica cosa che dovrai portare è la televisione. Se stai pensando a come potrebbe essere abitare qui, te lo dico io. Sarebbe comodo perché avresti un parcheggio di proprietà e sarebbe bello perché saresti circondato dal verde e comodo a tutti i servizi.